Sì, d'accordo, l'incontro. Sai un sacco di cose che non dovresti sapere. Un'emozione che ti scoppia dentro. Lo stanno a cercare. Io ho il tuo figlio. Si scopre che mi è stata a mettere in mezzo e prima ammazzarlo e poi ammazzati. Sì, lo so, il primo bacio. Sono morti che camminano. Il cuore ingeno che ci casca ancora. Se un figlio fa una cosa così è perché c'è un padre da merda. Sì, d'accordo, ma fuori. Mi stiamo andando conto, proprio, eh? Da cosa? L'incenzo. Era la fine del mondo. Tutto il resto è noia. 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 Questa ragazzina? Noia. 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 Noia.